Qual è l'ultima cosa che hai fatto l'altra sera? E che serve? Non lo so! Perché io sto qua? Perché è nato un trattamento sanitario obbligatorio. Vuoi dire che io non posso uscire da qua? No, se no non si chiamava obbligatorio. Io sono Gianluca e sono vergine. Quello è Mario. Lui è Alessandro. Madonnina l'hai già conosciuta. Chi è questo? Si chiama Giorgio. È al quarto DSO. Al quinto gli regali non viaggia a esercire. Io non c'entro niente in questo posto. Qua ci stanno i matti. Vedi io qua non c'eri matto. Non fa così. Sette giorni passano presto. Che bollessia. Pazzo che merda. Come va, ma è una giusta roba? Chiudi gli occhi. trai una cucchiaiata e pensi alla carbonara. Mi sa che con me non funziona. Sorte che questo posto me lo immaginavo un pochino meglio. Sì. E infatti perché te sei qua dentro? Infermiera! La libertà è andare un passo più avanti. Essere sempre è vero. Spiegare cosa è il colore a chi vede bianco e nero. Tre, due, uno. Questa cosa di te che mi fa incazzare. Che? Che mi fa ridere. Forse i miei compagni di stanza sono la cosa più simile alla mia vera natura che mi sia mai capitato di incontrare. per me Per i pazzi di tutti i tempi ingoiati dai manicomi della storia Sanchezza. Sanchezza.